Anche tu lo sai fare Guarda Scrotta l'orizzonte Ah infatti stavo cercando di capire Quindi vado a Mesapoli L'ansia è veramente una brutta bestia È che non è facile Non è facile Non so neanche se sia possibile Cioè magari alcune persone possono arrivare a un livello Dove riescono a controllarlo Però Ho mangiato una roba che mi dà potere uova più uno E dove la trovo da più due E dove la trovo Non so a quale sia Tu dov'è che vai? In che città vai a Ah a Messuria Ma c'è l'unica città dove sei? Dimmi di nella città dove sei Io sono a Mi hai detto Mesapoli Mesapoli Dove c'è l'accademia arancia Però aspetta Esatto hai ragione Allora Pokémon qua Cerchia Crea una cerchia Creazione della cerchia in corso Comunicazione in corso Sono ancora offline Perché dice che sono offline? Perché devi immaginarsi online Devi piacere La L Oh no Connettiti a internet Ok sono connetto Domani si Maneggiare un po' Ad Apex Provo a dormire con la live sottofondo Vediamo se i Pokémon sconfiggono gli incubi Speriamo di sì Lo In primis Sei tu che devi sconfiggere gli incubi E ce la farai E noi ti daremo tutto il supporto possibile Pensa a cose belle Non so Unicorni Farfalle Fiorellini Ah comunque sono online Ho aperto la cerchia E la password è U di urologo Y di yogurt R di ramarro LOL P di pene E J di Giorgio Secondo me il suo livello era circa 40 Ecco perché prendevo il pipo Teo Spievo Quanti Pokémon A livello Inizio Aspetta Il La specie di Mammoth È Tante Tipo 50 Ah ok Ecco Low Uh adesso provo No vale Allo Aspetta E Aspetta Andiamo Tony Ce la possiamo fare Aspetta Sì io non ce l'ho il cuore Ce l'ho il cuore Ce l'ho il cuore Ce l'ho Non ce l'ho il cuore Però si mette a fare un'altra cosa Ciao Cioè ce ne sono due di salute Anche Sì Ancora come hai fatto Anche quello No Oh bravo Tony Cosa stupito What? Anche tu lo sai fare Guarda Scrotta l'orizzonte Il problema è che domani Ho dovuto Purtroppo devo andare a fare la spesa Per mia mamma Prima che io parta Non è purtroppo Dai No perché Vuole usare i miei buoni pasto Quindi Poi a me piace Lo ammetto Mi piace andare a fare la spesa No ma che c'è da chi Mi piace comprare le cose Caspita Mi piace spendere Allora Aspetta che devo correre Con Picnic Forse è meglio Non fare un piccolo No Di venere nell'erba Su Posso lavare i pokemon Guarda Mi evito volare No Sto lavando I cose Sto lavando i pokemon Ho messo troppo Però In via quello lì Ho potuto saltare i cangini Mi troppa tutto il percorso Oddio in che senso Puoi lavare Hai visto che sto lavando i pokemon Guarda Tony Che Passa a fianco Mentre lavo con Iden Allora Non faccio a fare L'uovo Scusa Ah no Non ho messo in squadra Ditto Devo tenere solo quei due là Allora Allora Box 8 Ad esempio Guarda Prova a farmi delle uova Prova di cerca Ha detto Per dire Falso Pikachu Deposito Poperotto Falso Pikachu Kirlia Ha 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 Veduto che era femmina Veduto Quindi C'è 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 22 e femmina Può riaffrontare i cosi Comunque Decisa Era vero Decisa Sì Decisa Dovebbe aumentare L'attacco E diminuire L'attacco speciale E come lo vuoi Come lo vuoi Per quello indifferente Per quello indifferente Miao Miao Scalata Diventa Vediamo Le stat Decisa Cosa fa Aumenta L'attacco Diminuisce L'attacco speciale Ma cosa Cosa aumenta Cosa aumenta E cosa Diminuisce Non mi ricordo più Attacco Normale C'è là In su Rosso Ok Aspetta Un attimo Natura Decisa Aumenta Attacco Diminuisce Attacco speciale Sì Allora E' buono E' buono Sul mia Oscarada Decisa Invece E' una delle peggiori Per Skelleridge Per quello di fuoco Anzi Era peggiore Per lui Per Skelleridge Il meglio Dovrebbe essere O Modesto O Quieto Le schegge Servono per farti Armarudge Catturato E' fortissimo Scusa Natura Decisa Sarebbe Natura Decisa Aumenta L'attacco E diminuisce L'attacco speciale Comunque i miei Non fanno le uova Sono qua Gli ho messi Stanno Dormendo Guarda il picnic Sono al picnic Ah Un altro uovo Un altro uovo Ok Basta direi Terminarmi un picnic E dove sono finite le uova Scusami Ti do un uovo Di cosa Di Shark Adetti Scusami Voodoo Questo è difficilissimo Sto cercando di correre in giro Per vedere Sti Shark Adetti Come sono messi Picnic E dopo Come Ci ha fatto a vedere Tony C'è Il cestino Da aprire E c'ho le uova dentro Osservazione Uovo Cosa nascerà Ci vorrà un po' di tempo Esatto Sì Come l'avevo fatto io Tu sei Per certo Che Ti cercherà Quei pokemon Oh Tony Non do Tony Mi senti? Sì Ok Ho cambiato cuffia Che mi sono scaricata E quella è bluetooth Ah ok Ok Sono andate Meglio Compete Erano in offerta A chilo 10 Ok dai Sto aspettate Avviamo uno scambio Arriva Muoviti Dove sei? Ti devo sparare E devi andare in pokeportale E fai scambio Con link Ok Dammi un secondo Allora Allora Fammi vedere un attimo Quanto Ho corso Per le uova Ogni tanto si muove Si scuderà presto Dammi Allora fammi Fammi un attimo Scrivere Queste uova Questi ovetti Si si corri un pochettino Già si scudono Un po' di minuti Devi correre Dovrebbe mancare poco Tecnicamente In teoria si Due minuti In teoria Ci vogliamo per correre A uovo Cioè Poi te li schiude tutti Cioè non è Quanti ne hai messi in squadra? 5 Bravo Adesso Te le fa tutte Poi di fila Fai dei miei pochi metri E te le schiude tutti Io Sai quanti dratti Ne ho schiuso oggi? Eccolo qua Inizia a schiudere le uova Vediamo se le ha fatte giuste Si C'è il cadet Lo devi cercare con la cosa modesta Come ce l'ho io Modesta Esatto Modesta è il top Eccolo qua C'è il cadet Il cadet Lo devi cercano Eccolo qua Mi Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua A Grazie a tutti